Se ti dico Emilio è meglio, VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. Abbiamo tutti il diritto a una certa ora di sentirci bene un'altra persona. Se il pensiero dura più di pochi minuti, abbandona il tuo paese di sconosciuti. Impara un'altra lingua, apri le danze, non sei così male per uno che ha perso le speranze, ma controlla i tuoi fantasmi da tutte le parti perché perlomeno non feriscano anche altri. La goccia, quando cade in bocca, fa un rumore pieno che ti disseta, però lei muore nell'oscurità. Medicina per la timidezza, meglio del vino, meglio di una pastiglia e mezza. Questo malessere divino, cosa mai può essere? Puzzle di seconda mano mancano le tessere. Ci vuole più coraggio a essere brutti, a essere belli e bravi. Sono bravi tutti. Amica francese a Dio, non so se dirtelo, ma ti amai di un amore puro, indigeno. Poi muore e scorre fine sulla parete, nomi e cognomi degli attori alle spalle del prete, coprotagonisti in ordine di importanza e il pubblico si dà di gomito nella stanza. Hai visto chi ha amato? Beh, ne ha amate tante. Io pensavo il mio ruolo fosse più importante. Nella vita terrena esistono solo comparse, occhi sbavati come il cielo, briciole sparse, triplo della fatica come la formica, ma i sacrifici sacri io non ci credo mica. E sono pieno di buoni amici, ma non miei. Se mi baci, mi accoltelli, è tutto ok. Ok? Pollice su, perché siamo solo di passaggio. La morte è la vita vera, il sogno è un assaggio. Siamo dentro la favola che ci lascia sorridere poco prima di piangere. Modigliani, hai due ore per ridere, poi si riprende a vivere. Vieni, il vino è già in tavola, ma non vertelo tutto. Lascialo un po' per me. Grazie. 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 Grazie.